ciao a tutti ragazzi oggi vi parlo del ned rig che cos'è il ned rig è semplicemente un innesco finesse estremamente popolare negli ultimi due anni negli stati uniti che negli ultimi tempi mi sta regalando veramente delle belle soddisfazioni è molto molto semplice niente di nuovo e niente di ciò che non abbiamo visto fino adesso cioè semplicemente una testina piombata con un innescato un'esca dietro che può essere di varie forme di varie dimensioni e soprattutto di varia densità poi andremo a parlare di questa cosa perché è la chiave decisiva del ned rig quindi cosa ho fatto semplicemente ho poso una testina piombata a gambo lungo io di solito in base alla dimensione dell'esca vado a cambiare la tipologia di testina uso quasi sempre nel nail bomb del decoy che vengono fatte in diverse misure e in diversi pesi momento in cui io vado a prendere la mia esca faccio il classico innesco non texas ma quell'innesco che mi permette di far scorrere praticamente l'esca sopra al corpo della testina momento in cui arrivo contro il piombo della testina e con la mia esca ecco che è già innescato e la mia esca è perfettamente dritta ok voi mi direte cosa cambia dalla classica shaky head cambia e non poco perché nello shaky head di solito noi andiamo a montare un verme stretto e lungo che appunto scende molto velocemente che resta stand up per il 90 per cento delle volte e vibra molto bene soprattutto la coda che è la chiave decisiva dello shaky head qua invece è completamente diverso io qua ho innescato limo ripper della gicrac che è un'esca che sembra praticamente disegnata appunto per utilizzare l'innesco ned rig ecco che il limo ripper è un'esca veramente molto compatta molto solida con una bella composizione molto pesante si lancia molto bene ed è proprio la chiave del ned rig il signor ned quando ha inventato questo questo innesco l'ho proprio disegnato appositamente per una discesa molto più lenta una discesa molto più naturale nei confronti del pesce perché non scende in verticale molto velocemente come lo shaky head ma scende in maniera molto più orizzontale e fa questa questa discesa quasi ondeggiante sia quando arriva sul fondo e sia a mezz'acqua l'ho disegnata appositamente appunto con per esche compatte e di una buona densità infatti buona parte delle schi disegnate per il ned rig appunto sono non tanto grandi ma cicciotte e di un ottimo volume qua io ho innescato appunto limo ripper per dare una sensazione di finesse veramente molto importante ma ad esempio qua utilizzato un semi senco un senco style ad esempio in questo caso ho montato invece una testina piombata molto più grande e molto più ampia e l'ho adattata a un'esca come questa diciamo che niente di nuovo non ve l'ho già detto prima niente di nuovo e niente di straordinario per quanto riguarda il ned rig ma senza dubbio è una presentazione differente quindi dategli qualche chance non dimentichiamo che può essere tranquillamente anche utilizzato uno shed in questo caso il super twitch della net bait che è uno shed appunto con la testa piatta molto importante perché la testina piombata deve andare esattamente contro la testa e bloccarsi ma avere una codina molto mobile e avere soprattutto un corpo bello solido e molto voluminoso come canna vado a utilizzare una tailwalk full range la 67 mh ovviamente è una una presentazione finesse quindi io vado con la canna da spinning filo 6 o 8 libre considerate che dovete lanciare sempre delle esche abbastanza solide e abbastanza compatte quindi provate il ned rig e soprattutto nelle condizioni in cui ad esempio testina piombata o uochi non rendono vedrete che vi darà delle grandi soddisfazioni in bocca al basso